Con il dentro così grosso mi rimane piccolo fuori, lo dice la fisica, dentro su chi ha spazio fuori. Perché esiste dentro? Per mortificare fuori. Fuori, prima dell'invenzione di dentro fuori, nemmeno si era accorto fuori che stava fuori, fuori è semplice o che nasce fuori. Con l'avvento di dentro fuori, si è visto fatto fuori. Al Petrarca di Arezzo iscena la nuova dirompente creazione dei due artisti, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, massimi esponenti del teatro di ricerca. La porta non ha né una stanza e ha perso completamente la sua utilità. Quindi si continua a usare la porta per quello che era e non per quello che è. Qua stai! A cui non ti trovavo? È mezz'ora che ti cerco? È l'unico posto dove non l'avrei mai guardato? È diabolica, è infernale a suo modo. Inimitabile e combinato artistico del panorama teatrale contemporaneo, il duo firma a quattro mani dal 1987 opere riverenti, divertenti, surreali e cariche di energia, in grado di colpire un pubblico ampio e soprattutto trasversale. Performe nell'attore lui, artista e autrice lei. Nel 2018 sono stati insegniti dei leoni d'oro alla carriera per il teatro. Non ci conosciamo proprio, sono Toni con la J alla fine, era quasi finita la parola, non appena faccio interveniremo di metterci la J, pochissimo non sono donna. Sono Toni con la J alla fine, nuovo fidanzato di Chiara, spero l'ultimo, credo l'ultimo. È un lavoro di contaminazione più che altro. Negli anni 80, in pochi se lo ricordano, c'era questa mania della contaminazione. Io e Antonio siamo riusciti a portarla avanti, molti altri si sono poi rimessi sulla carreggiata sbagliata, cioè non hanno creduto nell'unione delle arti.